Sister Serena, bentrovata. Grazie. Bentrovata, missionaria della carità italiana, anzi milanese, credo. Da quanti anni missionaria? Quasi 40. Allora, lei è qui come testimone, perché ha conosciuto Madre Teresa, è qui come testimone di una storia dedicata alle missionari della carità e alla chiesa. Perché ha deciso di portare quest'abito? Ok, una domanda difficile è questa. Come? Perché la risposta ce l'ha assolutamente del Signore, è nel suo piano. E nel suo piano, posso dire il perché, un giorno mi sono incontrata con Madre Teresa, le nostre due vie si sono incontrate. Posso dirle un po' come sono arrivata a quel punto? Io credo fermamente a quello che c'è scritto anche nella Bibbia, che siamo chiamati dal grembo materno. Tutti quanti abbiamo una vocazione, non è diversa, ma tutti quanti abbiamo una vocazione e quella vocazione nasce dal grembo materno. È nostro compito riconoscerla e questo non è sempre facile. Io ci ho messo parecchio tempo. Anche se il Signore ci dà delle indicazioni. Io penso sempre, è un po' come una caccia al tesoro, no? Che agli angoli delle strade trovi un'indicazione di qui, vai di qui, vai di là, fai questo, fai quello, no? Così il Signore ci dà delle indicazioni e ci mette sul cammino. È una prima indicazione, un primo suggerimento che mi ha dato, un primo desiderio che ho sentito in me, era quello, il servizio ai poveri. E dapprima è diventato semplicemente un aiuto materiale che ero disposta a fare, no? Poi ho pensato che non era sufficiente dare il superfluo, no? Ma dovevo dare il mio tempo e a tempo pieno. E quindi è venuta l'idea di avere un'esperienza con un missionario a Laica in Africa, che ho fatto per alcuni mesi. E lì tutto era entusiasmante. L'unica cosa che non lasciava completamente a mio agio era la relazione tra il missionario e il povero. Era sempre un po' dall'alto al basso. Cioè, mi spiega, questo è importante. Cioè, il missionario era colui che aveva potere, che aveva denaro, che aveva capacità di aiutare, e il povero era quello che accettava, no? Però non c'era, era sempre un aiuto che veniva dal lato al basso, no? Ed era una cosa che non mi piaceva eccessivamente. O siamo negli anni settanta, più o meno. A quell'epoca la madre cominciava già ad essere conosciuta. Era già stata in Italia per alcuni incontri, c'erano degli articoli sui giornali. E quello che mi era colpito, quando parlavano di madre Teresa, era questo aspetto della condivisione con i poveri. Per cui sono venuta a Roma, da Milano sono venuta a Roma, per incontrare le missionari della Carità. Era l'unica casa presente a quell'epoca in Italia, chiedendo semplicemente informazioni sui missionari laici. Perché l'idea mia era sempre quella di essere una laica, no? E sapevo che nella congregazione esistevano anche dei collaboratori laici di madre Teresa. Però qui è accaduto un po' l'imprevisto, no? E ho capito improvvisamente che c'era per me un'altra chiamata, no? Che era quella di entrare nella congregazione. Difficile da spiegare come ho sentito questa chiamata. Chi l'ha sperimentato capisce, chi non l'ha ancora sperimentato forse non riesce ad intenderlo. Però era chiara la chiamata, non c'erano dubbi. Il fatto stesso che il mio rifiuto era così forte, dimostrava che la chiamata c'era, no? Altrimenti non ci sarebbe stato un rifiuto. E così ho deciso di entrare, con l'aiuto anche della Madonna, che in qualche modo mi ha fatto capire che se Gesù mi chiamava, mi avrebbe dato tutto quello di cui avevo bisogno per poter affrontare questa vita. Così ho fatto un po' il salto nel vuoto, il salto nel buio, perché questa è la fede, no? Ho fatto questo salto e ho trovato il mio tesoro. Ma lei prima ha parlato con Madre Teresa? No. No. Quindi si è fidata... Ciacamente. Senza timore di entrare in una congregazione, insomma, così tutta dedita alla povertà, così fuori dal mondo, così come noi lo concepiamo. Non siamo tanto fuori dal mondo. Non siamo tanto fuori dal mondo. Quello che la Madre ci diceva sempre, siamo contemplative nel cuore del mondo. E che vuol dire che viviamo in mezzo ai problemi del mondo, non ci esoneriamo da questi problemi. Direi oltretutto che li prendiamo su di noi in qualche modo, però il modo in cui li risolviamo è diverso, forse, da altre persone, no? Anche se parliamo della povertà. Il modo in cui cerchiamo di risolvere la povertà sembra un po' un paradosso, ma è già soltanto con la preghiera, con il sacrificio e con la condivisione. Questo ci torno, perché è proprio il cuore, credo, di aver intuito il vostro carisma. Mi dica ancora una cosa, sister. La sua famiglia come l'ha presa? Molto male. Ah, molto male. All'inizio, beh, questo è normale, è la reazione di tutte le famiglie, soprattutto mia mamma. Mio padre era più, in qualche modo rispettava la mia volontà. Avevo già quasi 30 anni, non ero una ragazzina a questo punto. Per mia madre fu molto difficile, anche se col passare degli anni le cose si sono... E anche questo, in genere, no? È letteratura, si racconta, succede. Si ricorda la prima volta che ha visto e incontrato Madre Teresa? Sicuramente sì. La prima volta che l'ho incontrata è stato già un paio di mesi dopo essere entrata nella congregazione. Sono entrata a Londra perché si imparava l'inglese, la lingua della congregazione. Quando sono entrata non sapevo assolutamente una parola di inglese, no? Quindi dopo un paio di mesi, la madre è passata da Londra in visita. e ha fatto una richiesta che generalmente non era solita, no? Voleva vedere tutte le sue ore, anche le aspiranti, cioè le nuove entrate, no? Personalmente. Cioè a quel punto ero felice di poter incontrare la madre personalmente da sola, ma allo stesso tempo mi si chiedeva come avrei fatto, perché non sapendo l'inglese, no? Ed è stato lì che qualcosa di bello è capitato, perché la madre ha iniziato a chiedermi domande semplici, il mio nome, da dove venivo, cosa facevo. E poi ha cominciato a parlare un po' del nostro spirito, no? E poi mi ha detto, non entriamo nella congregazione per servire i poveri, veniamo per appartenere completamente a Gesù. E continuo un po' su questo stile, e a un certo punto l'ho fermata di colpo, perché mi rendevo conto che stavo comprendendo perfettamente quello che mi stava dicendo, cosa che assolutamente non capitava in comunità con le sue ore, no? Però lo fermate, dico, madre, quasi non ci credo, no? Capisco benissimo quello che mi sta dicendo, generalmente non intendo le conversazioni in inglese. E lei mi dice, sì, perché la madre parla con la semplicità del Vangelo. Questa è una frase molto, molto importante, che dice forse di più di quanto potrebbe sembrare, no? Perché la madre non soltanto parlava con le parole di Gesù, ma agiva con le azioni di Gesù. In qualche modo era... Gesù la usava perfettamente, eh? La madre ripeteva, questo lavoro non è il mio lavoro, quest'opera non è la mia opera, è tutta opera sua, non c'è niente di mio. Ed era estremamente vero, no? Ma per poter arrivare a questo punto bisogna che una persona sia capace di spogliarsi completamente, no? Di se stesso, no? Di scomparire completamente per dare spazio a Gesù. E Gesù veramente l'ha usata perfettamente in ogni modo. Lei si ricorda anche l'ultima volta che l'ha vista? L'ultima volta, sì. L'ultima volta ero in Russia, avevamo un ritiro di superiore e la madre era venuta a partecipare a questo ritiro e alla termine di questo ritiro ognuno di noi di noi tornavamo nelle proprie case, a quell'epoca io ero in Siberia. In Siberia? Un posto tranquillo. Un posto tranquillo. E tutte tornavano, io tornavo in aereo, per esempio, altre che venivano da San Pietroburgo tornavano in treno perché eravamo a Mosca per il ritiro. E generalmente nella nostra organizzazione quando qualcuno viaggia, no? Cantiamo sempre, prendiamo in cappella e cantiamo una canzone di buon viaggio, no? Per la sora che parte. Quindi abbiamo fatto... C'era quella sora che andava a Pietroburgo e io che andavo in Siberia e che partivamo più o meno allo stesso tempo. Per cui insieme tutte le sore avevano cantato questa canzone per noi. Poi l'altra sora se n'era andata e io stavo aspettando un collaboratore che venisse a prendermi per portarmi all'aeroporto. Ero vicino alla porta, all'ingresso. La madre è passata e mi dice «Sai ancora qua?» Dico «Si sto aspettando qualcuno che mi venga a prendere?» «Ospetei». E mi sorride con quel sorriso furbo che a volte aveva, no? Come uno che vuole fare una marachella, no? E mi dice «Vieni, vieni che cantiamo ancora una volta, no?» E mi prende per mano, mi porta in cappella e inizia lei a cantare la canzone. Per cui sentendole tutte le altre sore di corso sono arrivati in cappella, no? E poi, niente, poi la persona che doveva venirmi a prenderla è arrivata e quindi lei mi ha dato la benedizione e io me ne sono andata. Però non avrei mai pensato che quella era veramente l'ultima volta, no? Ed è importante anche questo fatto perché in quel momento in particolare mi sono sentita come la figlia privilegiata, la figlia prediletta, no? Però questo è qualcosa che tutti quanti che hanno avuto l'esperienza con la madre hanno sperimentato. Anche persone laiche, persone che l'hanno incontrata per pochi minuti, no? Hanno tutti avuto questa impressione. In quel momento loro erano l'unica persona davanti alla madre, la persona più importante al mondo davanti alla madre, no? Perché in qualche modo rilascio quello che dicevo all'inizio, no? Gesù si prende possesso dalla madre e la usa, no? Nel modo stesso in cui Gesù ci ama, Gesù ci ama tutti quanti, però per ciascuno di noi si sente particolarmente amato, no? La stessa reazione l'avevamo con la madre. Chi è stata per lei madre Teresa? Per me è stata una madre. Una madre, mi sono sentita ammata da lei e io l'ho voluta bene. Attualmente ancora gli voglio bene ed è qualcuno che vive ancora vicino a me. Sai perché chiedo questo? Il Papa ha scritto la prefazione a dei testi ineliti che sono appena stati pubblicati di madre Teresa e ha usato proprio alcune parole chiave e le parole chiave sono quelle che potremmo specializzare. Preghiera, carità, di cui lei già parlava prima, misericordia e maternità. Ha usato proprio questo termine. Sì, era veramente una madre. Possiamo dire, forse, a volte parlava anche alle madri, no? Dicendo, voi siete il centro della famiglia. È la madre che costruisce la famiglia o distrugge la famiglia. E penso che questo concetto l'abbia vissuto personalmente, perché da giovane è stata identitata orfana quando aveva otto anni, quindi è stata la madre che in qualche modo ha iniziato a lavorare per sostenere la famiglia, no? Quindi questa figura materna è stata sempre forte per madre Teresa. Ma le superiore generali adesso come le chiamate? Non potete chiamare la madre? No, non le chiamiamo madre, le chiamiamo sorelle. Sorelle, cioè solo lei. Solo lei, madre. C'è un po' un piccolo episodio. No, ne vorrei tanti episodi. Di una suora che viene con me in una comunità e mi ha raccontato qualcosa che le è capitato, no? Un giorno avevo ricevuto una lettera da casa in cui aveva notizia che la madre, sua madre, era morta, no? Noi generalmente non possiamo andare a visitare la famiglia, generalmente andiamo soltanto ogni dieci anni, no? Per cui con questa notizia, quasi piangendo, è andata dalla madre, no? E dice, la madre non le ha detto niente. L'ha presa soltanto tra le braccia e l'ha stretta forte, forte, forte. E questa suora mi ha detto, nello stesso momento in cui ho perso una madre ne ho trovato un'altra. Perché questa è veramente l'impressione che avevamo. Era una madre per noi, estremamente. Senta, Sor Serena, voi avete sempre, è vero che avete ruoli diversi e luoghi diversi? C'è una pedagogia proprio del vostro ordine, quella di prendere e spostarvi come mansioni, responsabilità e anche come luoghi dove vivere? Beh, sì, noi abbiamo un... Il nostro voto di obbedienza è abbastanza forte, no? Per cui noi possiamo essere spostati in qualsiasi momento, in qualsiasi parte del mondo. Quindi non si può fare carriera nell'ordine? Possiamo avere... Sì, possiamo fare carriera, però nel giorno dopo che siamo arrivati al culmine della carriera possiamo cominciare da capo, ancora diceva apposta, naturalmente. Certo. Senta, le volevo chiedere che episodi ricorda che ci aiutino a caratterizzare il suo carisma, a raccontare il carisma di Madre Teresa. Beh, un episodio... Il carisma di Madre Teresa, quello che lei diceva sempre, noi non siamo assistenti sociali. E il fine della nostra congregazione è quello di saziare la sete di Gesù per amore e per le anime. E questa sete di Gesù, per amore, come la si sazia? Amandolo. Come si può amare qualcuno che non si vede, no? Quindi possiamo semplicemente saziare questa sete amando concretamente i più poveri tra i poveri in cui lui ha detto vi troverete. Per cui questo servizio ai più poveri è il mezzo, il mondo qualche volta non l'ha intuito nel modo migliore. Stavo per chiedere, pensate di essere capite in questo, perché si fa un gran parlare di povertà e spesso si dice è Madre Teresa la santa dei poveri. In che senso, le chiederei io? Ok, questa qui è una domanda molto difficile anche. Innanzitutto non c'è soltanto una povertà materiale e Madre Teresa l'ha detto molto concretamente, Sì, soprattutto quando ha cominciato a visitare i paesi europei, gli Stati Uniti, no? Quindi ha scoperto una povertà spirituale che diceva è ancora più difficile da saziare, no? Perché la povertà spirituale sono quelli che sono abbandonati, che sono non voluti, non amati per diverse ragioni. Possono essere lebrosi in India, possono essere malati di AIDS in Europa e in America. O le persone ciniche che non hanno più speranza nella vita. O sì, o gli anziani che sono abbandonati in una casa di ricovero e nessuno più li visita. Poi però la madre ha parlato anche di un terzo tipo di povertà e questo è molto importante. Una povertà che è la povertà che ci porta in paradiso. Cioè la madre era consapevole di essere povera. Quando Gesù l'ha chiamata, allora abbiamo questi scritti, quando Gesù l'ha chiamata lei ha risposto perché chiami me che sono così debole, che sono così peccatrice. E Gesù le dice proprio per questo ti chiamo. Cioè la madre era consapevole della sua povertà ma consapevole anche che questa povertà era particolarmente amata da Dio. e questo è un po' il messaggio che la madre ci lascia. Noi tutti dobbiamo essere consapevoli di questa povertà perché nella misura in cui sono consapevole della mia povertà Gesù, Dio, mi può usare. Se in tutto il mondo tutti quanti potessimo raggiungere questo il mondo diventerebbe un po' un paradiso, penso. Cos'è cambiato dopo la sua morte? Come vi siete sentite? Sole? No. Sentite solo assolutamente no perché la madre ce l'ha promesso e ha mantenuto la promessa di stare con noi. Come? O ci può essere un'assistenza spirituale che sentiamo che è vicino a noi ma a volte è anche intervenuta apparsa in momenti particolarmente difficili. Già per esempio per andare a un'inizio una volta in Gero in India c'era stata un'inondazione e al superiore della casa era riuscita di notte per controllare a che punto arrivavano le acque e la madre le apparsa e le dice non ti preoccupare vai a dormire io ci penso io a mantenere tutto in ordine. Questo è uno dei tanti episodi quindi la madre è con noi è con noi ed è con i poveri molti poveri potrebbero testimoniare della sua presenza in mezzo a loro di averla vista materialmente presente in mezzo a loro ancora. Avete mai vissuto sorella l'idea dell'impotenza davanti a tutte le povertà del mondo la famosa goccia che 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 momento dopo momento può diventare un mare ma non è così noi vediamo che non riusciamo a sopportare a tenere il mare del mondo. Sì ma noi non vogliamo risolvere nessun problema sui problemi le povertà non le risolveremo mai Gesù stesso ci ha detto i poveri saranno sempre con voi. Perché secondo lei se le è chiesto perché ad alcuni è dato questo tormento questo dramma e questo è il punto non è un tormento non è un dramma bisogna trovare il significato di questa povertà il significato di questo dolore il significato della sofferenza la madre diceva a quella persona che era malata di cancro che aveva un dolore terribile dice questo è il bacio di Gesù per te se noi troviamo il significato di queste cose ci sentiamo privilegiati non ci sentiamo messi da parte certo bisogna credere nel paradiso altrimenti non si crede nel paradiso ma siamo qui per questo è così semplice non è poi tanto complicato la fede come si allena o è grazia sono tutte e due le cose è grazia però anche se io voglio credere se desidero credere ricevo anche il dono della fede senta madre Teresa è stata considerata santa già in vita che significato ha per voi questa canonizzazione questa elevazione agli altari beh penso che non soltanto sia un riconoscimento ufficiale della santità di madre Teresa ma anche un riconoscimento del valore della validità del suo carisma per il giorno di oggi e quindi per noi è come uno stimolo per comprendere di più il significato di questo carisma e portarlo al mondo farlo conoscere al mondo voi siete sparse nel mondo in contesti anche molto difficili dove i cristiani sono pochi spesso sono perseguitati ricordiamo tutti l'episodio terribile delle vostre sorelle che a marzo del 2016 in Yemen sono state uccise anzi proprio lei ha letto ha letto per noi brani di questa lettera bellissima che loro hanno lasciato ecco avete paura? ok non posso parlare personalmente le posso dire che l'unica sopravvissuta della strage di Yemen che adesso è a Calcutta chiede costantemente di tornare in Yemen perché dice lì i poveri hanno bisogno di noi li abbiamo lasciati soli hanno bisogno di noi tra le cose che lei ha letto delle sorelle uccise non ci stanchiamo di bussare al cuore di Dio confidiamo che ci sarà una fine a tutto questo quando i bombardamenti sono pesanti ci nascondiamo sotto le scale insieme con Gesù Maria e la nostra madre cos'è che dà questa forza questa certezza questa serenità è vero che il cristianesimo è scandalo per la ragione questa forza viene da fare la volontà di Dio penso quando facciamo la sua volontà lui ci aiuta ma non può essere volontà di Dio che delle donne siano uccise in quel modo perché no lo chiedo perché se Dio è bene non può essere la sua volontà ok questo è il modo migliore di morire una delle preghiere che facciamo tutte le sede prima di andare a letto preghiamo per il martirio veramente si com'è questa preghiera è una preghiera che facciamo sulle ferite della croce per ogni ferita chiediamo di essere fedeli a uno dei nostri voti in povertà castità obbedienza e per l'ultima ferita che è quella del cuore di Cristo chiediamo il dono del martirio non si può dire non più nulla dopo questa questa affermazione non posso dire più nulla la ringrazio di saperci stupire questo è quello che le chiedo e le domando ancora è difficile convivere con popoli e persone di religioni differenti qual è il significato di questa fermezza della fede che voi avete rispetto ad altre fedi voi avete ben chiaro che la verità è una non c'è un relativismo in questo campo è chiaro la verità è una però non imponiamo la nostra fede a nessuno come madre Teresa non l'ha mai imposta a nessuno la madre diceva io insegno ad amare e questo è quello che noi vorremmo fare anche portare amore e insegnare ad amare poi se uno rimane musulmano o buddista non è molta importanza se uno sa amare e benché questo immagino non vi interessi c'è un ritorno di bene che voi ricevete anche da persone così lontane rispetto a voi a volte sì a volte no a volte sì direi la maggior parte delle volte sì però a volte abbiamo anche un rifiuto totale che dobbiamo accogliere tutto quello che viene questa è la misericordia che è gratis la misericordia no? perfettamente non chiede nulla in cambio sappiamo oggi da qualche tempo ma insomma sempre di più di quel periodo oscuro buio di cui madre Teresa ha parlato e di cui ha raccontato il suo confessore che ci sembra impossibile perché noi immaginiamo la santità come una via luminosa di grazia pura di privilegio e l'idea che si accompagni a un movimento drammatico proprio non ci sembra possibile voi siete rimaste stupite di queste cose di questo silenzio di Dio per tanti anni e come l'avete letto? e senz'altro è stato qualcosa di veramente nuovo per noi no? perché le esperienze che avevamo della madre era un'esperienza di gioia sempre la madre con noi era sempre un motivo di gioia era allegra lei? sempre sempre era una festa quando la madre era in casa con noi era sempre una festa perché? perché era bello perché perché partecipava a noi quella stessa serenità quella stessa tranquillità che lei aveva no? perché non aveva mai dato mostrato anche perché voleva mantenere tutto questo come segreto perché secondo lei? ma negli suoi scritti adesso lo abbiamo trovato no? una volta dice io voglio come ha fatto Maria che ha meditato tutto quello che stava capitando nel suo cuore senza senza parlarne a nessuno no? io voglio fare lo stesso poi un'altra volta scrive dicendo quando si scopriranno i dettagli dell'inizio no? quindi il colloquio con Gesù e queste cose si darà più importanza a me che a Gesù e questo non voglio che sia no? quindi ha sempre voluto mantenere tutto questo nell'oscurità no? era un suo segreto e non l'aveva liberato nessuno e non appariva assolutamente come si concilia con la santità questo apparente abbandono di Dio che ovviamente fa venire in mente il grido di Gesù sulla croce sì questo apparente abbandono di Dio è un amore particolare che viene rivolto a questa persona un amore veramente se Dio la considera quasi come suo figlio la stessa pena che Gesù ha sofferto sulla croce vuole che anche lei la soffra la mette sullo stesso piano di suo figlio quindi è una predilezione lei si rende conto che dice con estrema serenità e lucidità cose che sono impensabili che sembrano follia cioè parlare di predilezione per l'abbandono da parte di un Dio che gli hai dedicato la vita però questa è la realtà può colpire ma però questa è la verità è la realtà le ripeto sorella questa realtà come diventa tale attraverso un'educazione attraverso l'esercizio quotidiano di questa vita che lei ha scelto attraverso un dono attraverso l'esperienza quotidiana si sperimenta che la sofferenza è veramente Dio è un'esperienza che si tocca concretamente quindi cresciamo in questo quanti paesi nel mondo è stata lei sorella? parecchi ho cominciato bene in Spagna sono rimasta anche in Italia per un tre anni ed è stato quel periodo in cui ero più vicina alla madre perché era spesso di passaggio in Italia a Roma e poi sono stata per parecchi anni in Russia quasi 15 10-15 anni in Russia e poi in Mongolia a Calcutta a Venezuela questa è l'ultima sede e sono tornata da Venezuela l'anno scorso a dicembre lei ha mai pregato madre Teresa prima che la facessero beata e santa? ho pregato parlo con lei costantemente queste preghiere in qualche modo sì quindi ha sempre avuto la percezione che fosse una santa da quando l'ha vista la prima volta sì però parlare in che senso mi dice pregarla considerarla proprio quando era ancora in vita quando era ancora in vita non direi forse no adesso mi è più vicina forse non lo so avete avuto bisogno di tempo per capire anche la sua eccezionalità sì in qualche modo sì a volte c'è sempre questo esempio con la vita dei santi quello che noi vediamo della santità dei santi a volte è come la parte che galleggia di un iceberg no è una parte molto limitata in confronto alla parte che rimane nell'oceano se può andare nell'oceano lo stesso è la santità dei santi quello che appare in superficie è molto limitato e dopo la sua morte abbiamo avuto l'occasione attraverso i suoi scritti di andare un po' più a fondo e di scoprire questo iceberg che stava sotterrato nell'oceano ci sono giovani che come lei anni fa scelgono questa vita o la crisi vocazionale di cui si sente parlare tanto nella chiesa tocca anche il vostro ordine ci sono meno vocazioni che negli anni 60 e 70 quello senz'altro però abbiamo ancora vocazioni penso che ci possono essere due ragioni per questa crisi di vocazioni una è il signore chiama sempre indubbiamente però dobbiamo stare in ascolto in silenzio il mondo di oggi non ci aiuta a rimanere in ascolto in silenzio e un'altra cosa quando il signore butta un seme questo seme ha bisogno di un terreno fertile per poter crescere questa è la famiglia e la famiglia di oggi è in crisi e quel seme forse può morire senza portare frutti pure lei ha speranza per il mondo nonostante il pericolo di una guerra gigantesca nonostante l'atrocità di cui siamo testimoni e di cui voi siete vittime certo senza dubbio ci potranno essere crisi anche più più forti più grosse di queste però sappiamo che Dio è sempre in controllo della situazione non c'è nessun problema non c'è nessun problema non ci sono problemi anche per noi possiamo anche come cristiani possiamo diventare una minoranza persino questo non vuol dire proprio niente da questa minoranza si ricresce di nuovo no problem no problem grazie sister Serena grazie davvero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti